Affabile, disponibile ma anche determinato, il nuovo comandante provinciale Carabinieri di Campobasso, il tenente colonnello Luigi Delle Grazie, si è presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Delle Grazie, 54 anni, sposato, padre di due figli, arriva dal reparto operativo provinciale di Teramo dove ha ricoperto il ruolo di comandante, ma il suo curriculum è particolarmente ricco con incarichi di rilievo rivestiti in diverse regioni italiane. Il suo obiettivo è far bene anche in Molise, impostando il suo operato sul dialogo leale e collaborativo con il mondo dell'informazione e sulla lotta alla criminalità organizzata da cui il Molise non è esente. Oggi assumo il comando del comando provinciale di Campobasso, l'obiettivo qual è? Quello di poter garantire quella serenità, quella tranquillità, quella vita che la popolazione molisana di Campobasso obiettivamente merita e quindi il nostro impegno su tutta la linea sarà quello proprio di cercare di garantire la serenità, la tranquillità della vita delle popolazioni di questa provincia. Il benessere delle popolazioni si ottiene attraverso l'impegno, attraverso il contrasto della criminalità, sia diffusa sia nella criminalità che eventualmente a possibili infiltrazioni o tentativi di infiltrazioni delle regioni che ci circondano, che obiettivamente non sto qua a raccontare io ma è sotto gli occhi di tutti. La sua attività in continuità con quella del suo predecessore? Assolutamente sì, persona che apprezzo moltissimo, ha fatto un gran bel lavoro, io proseguirò su quella linea.